Vedere le montagne baciare l'alto cielo e le vonde abbracciarsi una con l'altra Mia sorella Fiore sarà perdonata se confrontare il fratello La luce del sole abbraccia la terra, i raggi lunari baciano il mare A cosa serve questa dolce occupazione se tu non bacerai? Mi? A cosa serve questa dolce occupazione se tu non bacerai? E scegli La stavo osservando mentre agitava scegli Ma sa che lei somiglia proprio a una regina? Beh ora però devo andare, è stato un piacere Forse un giorno ci rincontreremo Certo Good morning Mr. Master Maestro Simpli Oh 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 Simpli simpplli... Devin... S-Devin... Devin... 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 ... it's may... 7th... 2024 it's... ... tuesday in naples a middle perhaps metter simous li crowdie sky and atmosphere in general and it's also simprix Vestima thomont it's early afternoon pratical noon eeeh... 6x73x45x23x6 This means that this is a 3xlily, really soft, like in this video and as for the winter for which I use always the adjective called and it's a classic adjective and since I first thought it was a verse go as for up some men uno think or a bore or a bore which my videos I suppose in that I'm sure but whatever I see these things for the same also in this case for the spring and the autumn I use always and since I first thought it was a verse go and this is a case better say almost 3xlily, I use always the adjective itself what's a classic adjective and so as regarding the English address for me always nothing to say, nothing to end absolutely I can't complain but you understand being as in the spring period in fact the spring period of atmosphere it's all normal, this is a case, it's normal and about the atmosphere I think I can see in some meetings as I just before the English because it's bad no, bad, not completely good it's a case better say, I help I bet there's some etc this is not something that is not Speed adesso si vuole in esibito e vieni in fogare in diala rumore e risentate che non è riusciuto in genere infatti si sa pure se le curti infatti io si vuole in esibito anche se fatto che te questo liceo mese volte facciate sempre ripeta torta il nuovo mostri vabbè san metano so claudis e infatti infatti la fatica di andacolata di claudine and also that gold ring, but as always no, there's no magicians with that, even if it's clear, it's like I'm going to scribe oh, bed, well, at the moment, so see, there's another mythical wind, there's other new curtains in sufficient mix, but always white, but with other flowers, with other colors, because the previous flowers were pink, instead these are golden, and many years ago. So this is a very new element of it, but it was the two elements in general, so if we were to return back to the winter, the weather, so it's a little unexpected, but also when it's a beautiful, winter, and the rain is a little wet, so when it's a big part of this, the one is a little wet, stava giù generali ma troverà un bianco che sul suo terreno in scelta fai nei primi di archivio di magic sono forti 6 anni nel forti e pg se sono tutti fanno e beh, questo è il mondo di pipa, un po' mangiando di forza e è stato lì un greeting di due, ma sono il mio brano e il mio sister e l'altro mi scherzo e finalmente io poi io voglio le gratte breakfast lo dei, il cielo, il cielo, il cielo, l'abbasoluto e compagno di sottopino ma ti paura di un porto, se ti fessi fare vivendo il regolo a riaccio, se sei sempre dentro, se sei tre e tu cosa stai odi? De faccio te ne ha break fai fatine in tenna, e fu quem believe questa è stata, a ri-startate du-vit to fai fai Tie-fe-contenna, so tu dei far fare voi ripetere, it's just ronin una butta, butta, butta a really important thing to show is that in some way also to dei fortuna, tu stai odi, so, naim a lige angri and as we always see Grazie a tutti Grazie a tutti